Buon pomeriggio e grazie, è una strada che stiamo seguendo, che abbiamo anche in parte anticipato e condiviso, perché è un passo in avanti straordinario quello che l'Europa ha fatto, anticipando i tempi, precorrendo rischi e opportunità e soprattutto dando una risposta omogenea, concreta a un tema enorme, quello dell'innovazione digitale che come noi sappiamo sarà in continua evoluzione, in continuo sviluppo, quindi occorre creare un codice, creare regole senza assolutamente fermare la capacità di raccogliere risorse, di fare formazione, di fare ricerca, la strada che il governo Meloni ha imboccato secondo me è la strada giusta, risorse, ricerca e regole.